L'ultimo saluto a Giuseppe Zamberletti a Varese, ai funerali di Stato dell'ex ministro e padre della protezione civile, il capo dello Stato Mattarella e il premier Conte. L'inviata Elena Fusai. Il feretro entra nella basilica di San Vittore nel silenzio, fuori il maxischermo. La chiesa non riesce ad accogliere tutti dentro, accanto alla famiglia di Giuseppe Zamberletti, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il premier Giuseppe Conte e l'autorità locale. Era nato qui a Varese 85 anni fa, il padre fondatore della protezione civile, ex ministro e parlamentare della democrazia cristiana, si è curato delle ferite dell'umanità, ha detto l'arcivescovo di Milano, il signor Mario Delpini. L'onorevole Zamberletti, mi sembra tra coloro che hanno rivolto lo sguardo al Cristo crocifisso e hanno visto come da una ferita può uscire una vita, una speranza e ne ha fatto la sua ragione di vita.